Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi andiamo a vedere come montare il sistema Nogup Wall del Samsung The Frame Infatti all'interno della confezione del Samsung The Frame è già presente il sistema per il montaggio a muro che viene chiamato Nogup Wall In questo modo potremo andare a montare il nostro televisore quadro direttamente appeso alla parete con uno spessore sottilissimo Questo è il connettore che dovremo andare a inserire dietro la televisione per andare a connettere il One Connect Box Se non sapete di cosa si tratta vi lascio un video qua nelle schede che ve lo spiega Andiamo quindi subito a connetterlo nella porta dedicata e poi facciamo passare il filo all'interno della scannalatura in modo tale da bloccarlo Questo ci permetterà di andare appunto ad avere un filo completamente invisibile Lo andremo anche a fissare nella parte posteriore con gli adesivi forniti in confezione E quindi possiamo procedere con il montaggio del supporto direttamente sulla televisione prima e poi sulla parete Come vedete nella parte posteriore sono presenti gli attacchi VESA per collegarlo con un eventuale altro supporto Ma possiamo utilizzare invece gli attacchi più piccoli centrali per andare ad avvitare il supporto che viene fornito direttamente nella confezione del Samsung The Frame Una volta che lo abbiamo avvitato abbiamo 4 viti da avvitare Possiamo andare ad inclinare leggermente l'attacco del nostro Samsung The Frame Prima quindi di procedere dovremo andare a collegare la staffa al muro In questo caso posizioniamo la dima al centro della parete in modo tale da decidere dove vogliamo posizionarlo E con l'aiuto di un trapano andiamo a effettuare i fori sulla parete in corrispondenza appunto di dove andremo a inserire le viti Una volta che abbiamo fatto questo inseriamo i tasselli, mettiamo le viti e andiamo a bloccare la staffa direttamente sul muro Per andare a installare il televisore sul supporto dovremo farci aiutare da una persona Come vedete all'inizio il televisore rimane leggermente inclinato verso l'esterno Ma vi basterà poi schiacciarlo per averlo completamente attaccato al muro E come vedete rimane completamente attaccato al muro e assomiglia del tutto a un quadro Se avete delle domande su come montare il Nogup Wall di Samsung potete lasciare un commento qua sotto Come avete visto è veramente molto semplice Per questo video dedicato al Nogup Wall di Samsung è tutto Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere Ciao De Rico